Musica Siamo con Nancy Scognamiglio, delegata del Comitato del Corano della Croce Rossa Italiana per presentare nel prossimo 16 e 17 di luglio la Sacra del Pesce qui nell'area degli ex mulini marzoli di Torre del Greco. In cosa consisteranno queste due serate? Saranno due serate allietate appunto da musica e soprattutto da buon pesce. È un'iniziativa voluta dal Comune di Torre del Greco e messa in campo e realizzata dalla Croce Rossa Italiana. Il fine ultimo della nostra iniziativa è quello appunto di aiutare e continuare ad aiutare sempre più le famiglie da noi assistite sui territori di Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata. Come si svolgeranno queste due serate? Saranno appunto allietate da buon pesce tramite degli stand enogastronomici e della musica che alliterà appunto le serate messe in campo. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a tale iniziativa e vi aspettiamo il 16 e il 17 luglio qui a Torre del Greco ex mulini marzoli.